adesso voglio fare un giro di ricognizione per rally di quest'estate è serenissima e tutti i controlli disattivati quindi SP, anti-splittamento, OPS Siamo in terza, quarta, sotto la turbina a ripresa da mille giri a 1700 giri da cattolpina ma meglio di un diesel a si controlla sicuramente il Skullbootica ma come che si e che i freni insomma è ancora da andare diciamo Skullbootica è più divertente cioè ti regali la sensazione che sennò quest'altro ti vale sensualmente da piantare le pie e basta così ti senti i limiti della macchina che si senti i limiti della macchina che si senti che che perde tanto è quasi diversa rispetto a questa mattina quando c'è si si una cabezina ti ho fatto pure a 5 euro adesso ho fatto i 5 euro prima ho fatto se senti come che imprima ci porti subito sui giri ma non so che limitatore sei però che limitatore sei come bu 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 eh già un paretto e che c'è l'unitazione che dov'è andare a choperare RATATATATUNPUM Eeeh Sì, è vero È vero, è vero, è vero, è vero, è vero È vero Questa come apri pista la Rally di Scorsena la Rally di Scorsena Vabbè, proprio Porto Adesso mi tocca stare in cusina Sì Ti parli di che passaggio per la spetteria? Spero domenica è un mattino di salvare Eh dai, bisogna Non so, mi dà un male Bella, bella Eh, se non ci ho fatto No Bene, prima di rimanere a secco Meglio che la parcheggiamo Questa scarticonella Grazie a tutti.